Quando ero ragazzo, ci crescevano nel rispetto delle regole. Ehi, testa di cazzo! Cosa hai detto? Cosa? Antonio Soprano Le potrei parlare in privato, signora Soprano? In base allo Stanford Binet ha un QI piuttosto alto. Me lo può dimostrare in qualche modo, la sua media è appena sufficiente. Solo perché non si applica, ma è molto intelligente. I risultati dicono che è un leader. Ehi, zio Dick. Crescere con la famiglia comporta un costo. Tu sei mio nipote. Farò tutto quello che posso per aiutarti. Il mio regalo per te. Io voglio andare al college. Non posso fare queste cazzate. Fai così, prendi quelle casse e intanto dia a te stesso. Questa è l'ultima volta che rubo. È semplice. Ci parlo io con lui. Ti arretta solo a Dickie. Facciamo qualcosa per Dickie Moltisanti. Forse alcune delle cose che fai... a Dio non piacciono. Tu dai l'esempio e lui prenderà la decisione giusta, a stoffa. Per quanto riguarda tuo nipote... Che mi vuoi dire? Stai fuori dalla sua vita. La Albania Che si viene le ci sia La società Lecun water Deve ha Il Steve Radio Grazie Grazie a tutti